Vabbè, più per nessuno, e sarei voi che lo dite, noi cerchiamo di affrontare ogni partita al 100%, possiamo giocare anche con l'ultima classifica, ma la mentalità vincente deve essere anche quella là. Volevo fare i complimenti al Golbet che si ritiene ancora una squadra ossica per noi, è difficile batterla, però voglio fare anche i complimenti al Cotton Club, perché abbiamo iniziato male la stagione, venendo da un pareggio con l'Angelis, e questa è la forza della squadra, la mentalità vincente, dove il mister Flaviano e il presidente Maurizio ci si smettono ogni partita. Oggi la prima pagina, secondo me, è tutta del Cotton, perché il Golbet diceva di vincere facile il campionato, però le partite, secondo me, vanno prima di sputare in campo e poi parlare a fine partita, tutto qua. No, guarda, prima dobbiamo affrontare le partite successive. Sai, giocando con Golbet, che è con lo scapicollo, Pisana, le motivazioni ti salgono a sole. Per essere una grande squadra, tocca prima battere quelle in classifica inferiori. Da là si riesce a vedere se il campionato è finito oppure no. Grazie e complimenti a Mirko Forci. Grazie a te.